I raffinati cartelles del cinema cubano sono in mostra da oggi e fino a venerdì 29 nel palazzo della Camera di Commercio in Piazza Bovio. 36 serigrafie dagli anni 70 ad oggi interpretano opere cinematografiche con assoluta libertà di stile, testimonianze di un'arte svincolata dal denaro e dalle logiche di mercato. Una giornata dedicata a Cuba e ai suoi rapporti con l'Italia si è svolta nella sala parlamentino con un seminario sulle prospettive di investimento e sulla cooperazione fra i due paesi. Il sindaco De Magistris, intervenuto a portare il saluto della città, ha sottolineato il rapporto d'amicizia che esiste fra Napoli e Cuba.